Ciao ragazzi, sono tornato su questo gioco, a dir poco, gioco, esattamente, il miglior complimento che riesco a fare, ho finito appunto il gioco, le mie idee sono cambiate su questo appunto gioco. No, lo considero ancora vergognoso e, come dire, imbarazzante, ma attenzione, ci sono delle cose che mi sono piaciute, ma non così tante da depurare, insomma, questo mare di feci anche di una certa dimensione che è chiamato Pokémon Scarlato e Pokémon Violetto. Andremo a scoprire perché, tra l'altro piccolo avvertimento, anzi no, piccolo ricordo, ragazzi, questo mondo è fatto di persone che hanno opinioni diverse, è questo che lo rende interessante, sicuramente avrò qualche idea diversa dalla vostra, pazienza, scialla, insomma, no? Per prima cosa vorrei farvi vedere la squadra che mi ha portato, insomma, a fine gioco, ma per farlo dobbiamo uscire anche perché c'è il preside che mi sta guardando il sedere da tre quarti d'ora ed è diventato un po' inquietante. Mamma mia che bella giornata per fare un video. Ragazzi, ho passato innumerevoli ore su questo gioco e quindi i miei occhi sono completamente distrutti e abituati a questa grafica, quindi non andrò troppo a commentarla. Penso che l'abbiamo già commentata abbastanza, fatemene andare da qui. Eccola qui, famo un bel picnic, miglior modo non c'è per farvela vedere, un po' encasinata in effetti. Vabbè, ve la faccio vedere un po' meglio, questi qui sono i sei membri. Pensate che ho dovuto mettere in over, che è una cosa che io non faccio mai, usare un Pokémon di una precedente generazione in un gioco di nuovo, appunto. No, perché ho visto il drago semileggendario di sta generazione e ho detto, mettiamolo da parte, dai, mettiamolo nel box. Non vi farò vedere tutti i nickname perché alcuni sono imbarazzanti e, come dire, non si possono mostrare su YouTube. Ecco, tipo questo qui, Ardemonio. Tra l'altro è una piccola chicca, una piccola citazione, se qualcuno la intuisce in qualche modo lo scriva nei commenti. E scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questo gioco man mano che andiamo avanti con il video, se siete d'accordo con me o no. E soprattutto iscrivetevi, che fa sempre molto molto comodo. Un altro nome poco imbarazzante e difficile da trovare, lo ammetto, per questo Pokémon che, ragazzi, io adoro. Lo adoro da morire, veramente. Oliver, magari faccio un video apposito per spiegarvi, insomma, come sono arrivato al nome Oliver. Poi c'è lui, che è semplicemente incazzato nero, lo adoro da morire. E poi c'è lei, ok, Blocco. Attenzione, però, non è il suo nome. È il suo luogo di origine. Lei viene dal Blocco e si è fatta tutta da sola. E per finire questo struzzo impazzito fracico, che se mi distraggo un attimino, non lo so, mi usa come nido per le sue uova, a molti non piace ma a me sì. Ecco, parliamo di Pokémon che piacciono e non piacciono. Dovete sapere che mia tradizione è da quando sono piccino, 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 usare in un gioco Pokémon nuovo lo starter di tipo acqua. E perché allora qui c'è quello di tipo fuoco? Ah, mamma mia, eh, perché secondo voi? Tra l'altro qua Tito, vabbè, livello 37 l'ho lasciato, l'ho messo nel box e vi giuro che è la prima volta che faccio una cosa simile. Ragazzi, non mi piace per niente, non mi piace in nessun modo, non riesco proprio ad accettarlo. Cioè, sembra veramente un uomo con il becco, nient'altro di più. C'ha un culone incredibile che fa invidia ai peggiori, non lo so, insegnanti di twerk al mondo. Al posto delle zampe ha dei palloncini, quelli lì con cui facevano noi, palloncini allungati alle feste quando eri piccolo. Poi c'ha i pantaloni che è una cosa bruttissima e poi, ragazzi, c'è, ho capito ispirarsi a un ballerino e tutto. Ma questo è proprio un ballerino, cioè io non... non è più un Pokémon per me almeno. E io non scherzo quando dico, vi giuro che per me è lo starter peggiore fino adesso di tipo acqua, soggettivo. Non ne trovo uno pe... guardalo qua, stai fermo, poi non sta fermo, pure in lotta, mi fa menino, mi fa andare al manicomio. Non posso, io ce voglio parlare, non riesco a prenderlo... fermate, guarda, da lontano. Ma che vuole il bacetto? Stami... no, stami lontano. E io vi giuro che mi sono sempre tenuto lo starter d'acqua fino all'ultimo, pure quando avevo Primarina che, insomma, non era sto granché. Comunque piaceva, comunque ero affezionato al tipo, con questo non ci riesco. Non sta fermo, deve stare fermo per me almeno. No, non te lo do il bacetto, vattene via. Cambiare lo starter... dove va? Dove va? Fammi parlare. Cambiare lo starter a metà del gioco, quello lì che no... oh, no ragazzi, io non ce la posso fa... Dicevo, cambiare lo starter a metà del gioco è una cosa orribile anche per me. Ma siccome ho pensato che io questo gioco non lo giocherò mai più e volevo godermi uno starter fatto bene, no? E avevo lo starter di tipo fuoco che ho usato per il video e l'alternativa sarebbe stata lasciarlo nel box per sempre. Invece di usare un Pokémon che non mi piace ho usato lui. Molto molto carino, secondo me sembra un po' incompleto, eh. Qui dietro, secondo me, sembra un pochino troppo vuoto, poi, non so, la testa gli fa un effetto pelata. Però è carino, anzi, anche il verso, per me è incredibile il verso. E anche lo starter di tipo erba mi piace tantissimo. Piccolo Quaxly, lo vedevi da piccolino, voleva essere un pirata, io ne so sicuro. Cioè, ma io lo conosco il mio Pokémon, voleva essere un pirata. Vi faccio vedere gli shiny che ho trovato, guardate che culo a trovare Yangus shiny, mamma mia. Poi, vabbè, il Cricketot del video che è molto carino, per quanto inutile. E lei, l'ho fatta salire di livello, l'ho fatta evolvere. Però a me, sinceramente, piace molto di più Bianco, quindi mi sono lasciato Blocco. Che, tra l'altro, Blocco è un altro Pokémon che a me fa impazzire, eh. Io ve lo dico, io ho i miei gusti, va bene. Comunque, basta chiacchiere, andiamo a vedere cosa fare in questo video. Voglio recuperarmi un pochino l'Area Zero, esplorarla con voi. No, no, io non ci posso credere, non ci posso credere. Oh, vieni qui. Ma che cos'è sta cosa, ultimamente? Io stavo parlando e mi vedo sto coso dietro. Non so, fare video mi porta molta fortuna. Poi non so perché sapevo che avrei trovato sto cos'è, sto Hoppip shiny, prima o poi. Ma è stupendo. Io lo lascio così, con che Pokémon lo catturo. Perché è importante, ragazzi. Allora, Jumpluff shiny è rosa, quindi secondo me la Curable è la migliore. Anche se adesso è verde. È comunque piccina piccina, quindi va benissimo. Guarda, becca di questa cattura assicurata, come cazzo la si chiama. Comunque, dicevo... Eh, madonna mia, ragà, io rischiavo di non vederlo, sto qui, eh. Vabbè, sono stato proprio fortunato. Perché non ci sono avvertimenti sonori, vi ricordo. Vorrei bazzicare al volo al Varco Zero. Perché voglio trovare quel Salamence incredibile che, tra l'altro, ragazzi, dobbiamo dircelo. Le esclusive di Scarlatto, non so quanto possa essere soggettiva l'opinione, ma secondo me sono molto, molto meglio. Cioè, gli altri tutti robotici, va bene, alcuni sono carini. Ma quelli di Scarlatto non vorrei dire che so tutti, tutti belli, ma quasi. Posso buttarmi direttamente, scusami? Sì che posso, dai. Facciamo i seri. Posso? Mi sa di no. Oppure sì. Ah, e sentite, visto che siamo nel Varco Zero, parliamo un pochino del finale, no? Il finale di questo gioco è stupendo. Semplicemente stupendo. Certo, cose buttate un po' così, eh. Però, molto carino. Di certo un grande passo avanti rispetto a Spada e Scudo, che andavi da Eternatus, o ammazzavi e finiva lì. Mi è piaciuto molto, ragazzi, ma io vi ricordo che prima di queste due ore di finale, insomma, io vi ricordo che ci sono 30 ore di gioco. Molti di voi, lo so, avete letto i commenti e tutto, hanno detto che il gioco gli è piaciuto. E ok. Cioè, è difficile che non possa piacerti davvero un gioco Pokémon. Perché ci vuole poco a renderlo divertente e intrattenente. E le idee in questo gioco sono anche carine. Il problema è come le hanno applicate. Oh, ho trovato già il Pokémon nuovo che cerco. Prima di sto finale, molto, molto carino, ci sono 30 ore di gioco. 30 ore di gioco che navichi, insomma, l'ho detto già, in un mare di sterco. E valutare un gioco per le due ore finali e escludere le 30 di prima, mi sembra un pochino non molto saggio. Quindi per questo rimango dell'idea che questo gioco faccia comunque cagare. Detto molto sinceramente, ho odiato le cose dei capopalestra. Le prove dei capopalestra che li ridicolizzano un botto, secondo me. Resi proprio bambineschi fino all'ennesima potenza. Era bello esplorare la palestra, cosa che ora non abbiamo neanche più, perché si fa tutto all'aperto, più o meno. La palestra adesso è soltanto una struttura del cavolo dove parli a reception e gli dici, oh, sto qui. Oh, bello, come stai? Vattene un attimino a cercare il capopalestra. Poi nelle lotte contro i capopalestra hanno riciclato la musica che usavano in spada e scudo, che non ha il minimo senso, perché quella lì era così, era fatta in quel modo, perché c'era un coro a cantarla. Non è la stessa cosa. A proposito di Romanaccio, raga, Ma che cos'è quel personaggio, quel Super 4? Ma è una cosa imbarazzante. Ma perché l'hanno messo? Gnappolè. Ma ha chiamato Gnappolè? Non lo uso neanche io sto termine nei video e ci mancherebbe. Mi corcherebbero dalla mattina alla sera. Per me è stata una cosa atroce vedere quel coso. Cioè, perché è insensato vederlo lì. In una regione ispirata alla Spagna, che di spagnoleggiante non ha niente, sono sincero, a parte gli uliveti ogni tanto e i mulini, cos'altro. Cioè, immaginatevi se questa generazione, no? Con tutto questo, insomma, design particolare e tutto, fosse stata ambientata in Italia. Madonna mia, che spreco. Cioè, immaginate l'Italia ambientata in questo gioco del cavolo, con questa grafica e con questo poco impegno. Ci avrei rosicato veramente tanto. Pensate gli spagnoli quanto lo stanno facendo. Tu vedi dentro, perché non voglio, eh, non voglio dilungarmi. I jump up che me guardano dietro. Vabbè, blocco, eh, blocco, crescere nel blocco, a quanto pare non è servito, almeno in questo caso, perché hai fatto molta strada. Tra l'altro da sola e senza un soldo in tasca, eh. Oh, non mi morì davanti così, però. Ok, possiamo andare avanti così. Non usare troppo forte, a parte non ha effetto. Ma sei sce... Eh, vabbè, dai. Poi la cosa dell'aver riciclato un capopalestra per fare il Super 4, non l'ho ancora capita adesso, che sono arrivato a fine gioco. Cioè, l'hanno letteralmente riciclato. Una cosa mai vista in tutti i giochi Pokémon. Boh, va bene. Vedi dentro, se no uso la Reteball, eh. Non mi costringe a usar la Reteball che non te sta bene col design. A posto. Parliamo di lui? Ci parliamo? Secondo me è proprio la rappresentazione del gioco stesso. Cioè, una grandissima presa per il culo in alcune, anzi, molte cose. Ma potete fare Dunun Sparce, un Pokémon che il fandom aspetta da generazione che diventi di tipo Drago? Tu che cosa fai? Lo umili, semplicemente. E lo fai rimanere di tipo normale. È una cosa che proprio non concepisco. Cioè, non concepisco come possa avvenire un'idea tale nella mente. Cioè, dovrebbe far ridere. Ti sembra che sto ridendo? Io sono triste per il povero Dunun Sparce. Poverino, non sarà mai più un tipo Drago. Dunun Sparce. È una presa per il culo. Attento che cadi, eh. Raga, una cosa chiedevo da sto cazzarola di gioco che i Pokémon fossero sensati nel loro ambiente, no? Ragazzi, ho visto Magnemite in mezzo ai maiali. Così, nell'erba alta. Senza un motivo. Spiritomb, lo puoi trovare sulla montagna innevata. Vi ricordate quella roccia che dovevi risvegliare facendo cose assurde in cui sono intrappolati e condannati innumerevoli spiriti? Adesso se ne sta in giro fa la montagna innevata. Cioè, io posso capire se ha ammazzato il suo allenatore, no? Sarebbe l'unica spiegazione per cui lui se ne vada in giro così tranquillamente. Però, io so, sicuro che Pokémon non avrà dato questa spiegazione. Semplicemente l'ha messo lì. E il bello è che molti Pokémon compaiono a gruppi, no? Come gli spawner di Minecraft. Solo che gli spawner di Minecraft erano giustificati. Ste cose mi danno un nervoso perché rovino... Io tengo a sto gioco, tengo a Pokémon. E il bello, anzi il brutto, è che questa cosa non cambierà mai perché in tre giorni il gioco ha venduto dieci milioni di copie. Ah, e ovviamente anche io sono complice di questa cosa perché anche io ho comprato il gioco, faccio parte di quelle dieci milioni di copie. Certo, l'ho comprato nella speranza che finalmente facessero un gioco decente dopo un bel po' di tempo, ma purtroppo non è stato per niente così. Non faranno mai e poi mai le cose per bene. Le faranno sempre così. Eccole. Così, non capisco perché la compagnia Pokémon sia così pigra a differenza degli altri titoli Nintendo. Mi viene veramente una tristezza assurda anche perché è il mio brand preferito. Non vuole dare ascolto a chi a sto gioco ci tiene un botto e vuole pensare giustamente al pubblico di bambini che non sanno manco come si scrive e giocano a Pokémon. Perché? Perché ci sono guadagni incredibili semplicemente. Posso trovare Salamence così me ne vado da qui. Ma che è? Ma che ce fa lui qui... Oh, levate! Scusami, eh! Cioè, non ha il minimo senso, non ce l'ho neanche in squadra. Perché è qui questo? È un qualche easter egg oppure il solito glitch bug? Perché c'è qui? Ah, sì, la Pokéball è un glitch. Semplicemente ti fa vedere la prima Pokéball che hai nel team. Vedete, ho cambiato Pokémon ed è cambiata pure la Pokéball. Una roba aberrante. Vabbè, lasciamo stare. Dobbiamo andare al coso numero 3. A lui lo lascio da solo. Mmm, va bene. Allora, sì, si trova esattamente tra queste rocce. Bello nascosto, è giusto. È giusto che sia così. Vediamo un po' se lo troviamo subito. apprezzerei la cosa. Ah, oh, dove stai? Menta timida. Va bene, sono contento. Tanti cagnolini morti. Eccolo, ok. Penso sia rimasto di tipo drago. Ma ha perso le gambe? Ah, no, ok. Perché rimane a terra? Ma scusami, eri molto più caruccio alzato. Ma alzati. Vola. Comunque è bella questa compenetrazione. Ok? Dai, benissimo. Luna ruggente, drago buio. Buio così proprio lanciato a caso. Perfetto, non te posso manco mettere in squadra perché ho l'evoluzione di B-Sharp, ma vai a cagare, va? Ehi, magari te sei di tipo volante, ma a parte che non vola più, non si sa perché. Alzati! Vola! Vabbè, andamosene da qui perché adesso ecco, il varco zero non serve più a niente. A posto. Allora, adesso proviamo a impegnarci. Vorrei fare uno dei quattro leggendari perché quelle porte nascondono questo. Già lo so. Ok, ho preso finalmente l'ultimo. Me ne ero perso uno. Mannaccia, oh. Ok, sono proprio curioso. Vediamo come si entra. Lo guardi e poi... Tiè. Eh, sì, sì, si è agitato. Ho sentito il contatto. Rattle, 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 rattle. Clanga. Non serve che me lo scrivi. Cazzarolè. Mazza. Eh, boh. È molto strano. Ma non c'è un posto in cui combatterlo, no. Esce lui fuori, porca miseria. Oh, non ne fanno una giusta. Non riescono a farne una giusta. Non c'è neanche il luogo dove combatterli. Usa catastro... Ma come catastrofe? Blocco, resisti alla catastrofe. Oh, almeno la musica spigne. Mamma mia, qualcosa che spigne in sto gioco, finalmente. Non è che te vado ad entrare nella scuro ball perché è notte? Dai, che ne dici? Mi fai il bravo. Lumaca del cavolo. Entra. Sì. Brava. Bravissima. Buio, erba. Mannaccia, ancora sto cazzarola di buio. Perché erba? Perché buio, più che altro. Il do sta al coleottero. Mannaccia, prese vita quando delle foglie secche si inirono all'astio di una persona punita per aver scritto le malefatte di un re delle tavolette di lei. Una volta sti Pokémon prendevano il tipo spettro. Pure sta generazione con i tipi completamente sfasati. Ad esempio, Banette era, tipo, non mi ricordo, tipo il rancore è entrato dentro una bambola. Pokémon, disgrazia, la madonna, ma se è una lumaga del cavolo fatta di foglie, ma chi la vuoi raccontare? Ma levati dalle palle e rimani nel box per sempre, dai. E niente, ragazzi, mo' potremmo metterci a cercare i leggendari, ma vi ammetto che non ho molta voglia. Intanto so che mi deluderanno un sacco. Poi, cioè, cercare i leggendari è semplicemente cercare il video di quello che l'ha fatto perché sti cosi non sono imposti, sti oggetti che devi trovare per appunto aprire ste porte non sono imposti intuitivi, stanno in mezzo alle cime, cioè non puoi trovarli per un mondo poco interessante, vuoto e noiosissimo oppure cerchi il video e basta. Però, entrambi le cose sono brutte da fare, quindi, indovinate, non farò nessuna delle due. Saluterò questo gioco con molto poco rammarico. Non lo so, vi lancio al volo qualche parere che ho dei Pokémon. Lo sapete di qua qua va che cosa ne penso. Tandemouse non ha motivo di esistere, infatti, non mi interessa neanche l'evoluzione, questo qui lo adoro. Pure Anni Leipa mi è piaciuto molto, quelli di Spadaccini. Bramblegast mi piace molto, anche Ted Skrull, Scovilla nel più grande disappunto che si possa avere, probabilmente uno dei maggiori, sì, una delusione atroce, bruttissimo, mamma mia, guarda che corpo, il corpo è incompleto, palese. Rabska è molto molto carino, e Spadra va bene, va bene, è carina anche lei, anche se è vestita. Tinkadon ci sta, certo, un martello enorme e le ciglia, che non appoggio molto, però va bene. L'evoluzione di Finizen non mi piace come hanno fatto, come hanno realizzato l'idea dell'evoluzione, appunto. Reva Vrun è un motore, la cosa non mi piace a prescindere, vabbè dai, basta, non ci prolunghiamo, anche Glimmora mi piace. Il semileggendario non mi piace, neanche Goldengo, è orribile. Grafaiai, bello, ma in squadra tu metti te, poi qualcos'altro, Kilowattel secondo me è un po' troppo semplice, Bellibolt non lo so, non riesco a capire se mi piacciono o no. Squacabilli di Sfizioso ha soltanto il nome, perché il resto fa veramente cagare. Paumot è una delle evoluzioni più sprecate al mondo, Lokix non mi dice niente, sembra una spillatrice, o in Cologna può andare a quel paese, penso che abbiamo finito. Spero che il video vi sia piaciuto, se avete assistito a un Jason che si lamenta per un buon quarto d'ora, non lo so, questo è l'ultimo video che vedrete su questo gioco, almeno fatto da me, vabbè, io e il mio Kingambit, bellissimo, che non si alza mai dalla sedia, fa di lavoro lo streamer, e niente. Vi ripeto, spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi che è molto molto importante, lasciate like, condividete, insomma, e basta, basta offendere sto gioco, mi sono pure rotto di starci dentro, niente, ci becchiamo.